Ciao ragazzi, oggi siamo a casa di mio cugino, Simone, che sta guardando, nei gattoni, il fondo... Chiudica questa cosa, qua, con un video, dopo quanto tempo... No, non è un video, no, non, un video, ho quanto tempo? No, un mese, è un mese, perchè, tra lui lavoro, tippe, io tippa, nel cuore, non... non abbiamo pochissimo tempo. è venuto a fare questo video velocemente che oggi dopo tre mesi io vado a casa sua perché non è mai successo e allora ma dai ma bene che lo sei però io ho sempre detto che la mia bugione non è normale vabbè comunque a parte tutto vado a fare i consigli di ringraziamento io ho sempre detto che la mia bugione non è normale hai già problemi di nascita ma non bisogna me lo tenere oh oh Dio ma poi questo video veloce ti ringraziavi dei 100 iscritti che per noi è un traguardo grandissimo in una cucina si diverte a fare il piraconi catturco ientai ma che lo sei ientai ientai e comunque vado a fare i ringraziamenti vado a ringraziare in particolare una persona questa persona è Cash78ct che è sempre tenuti su un box da tanto tempo ed è soprattutto grazie a lui che abbiamo avuto i 100 iscritti poi c'è anche Daniele e anche andare a ringraziare e dopo questo e dopo questo vi lasceremo con delle foto finali che mi hanno fatto eh sì poi dopo li metteremo siamo comici allora lo facciamo allora che metteremo alla fine del video e quindi volevo ringraziare a tutti i 100 iscritti ringraziare i piedi di Simone che sono molto belli da vedere adesso vediamo che si è mentegli da vedere dai la notte prima tutto finisse arrivo con ora che sveglio fino a tardi cosa vuoi a pensare faccio curare dai vogliamo ringraziarvi che cintai di merda gli sono molto più belli non so cosa ti entra vabbè ragazzo feruto qua ma comunque è casa tua questa che cosa dici che cosa è tua che cosa dici mi vigno che siamo preso mi dici che cosa è tua c'è ognuno che siamo quello tu ok si è fruttuto da solo allora io sono il comico Donald ti saluta lui è nato Simone che guarda in te mani me in te in te in ci sono le tette quindi in te allora mi chiedo però mi chiedo però mi chiedo per me in te perché non c'ho le tette non c'ho le tette non c'ho le tette non sono in te dai ragazzi vediamo alla prossima no non c'ho le tette una prossima volta comunque continuate a iscrivervi non c'ho le tette e sono diventati proprio quelli pesanti e ci vediamo su 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 no anime 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 a n i m e che è mu ar dai che ti vedrà bu via non c'è certo un altro amore solo un'altra puttana ma ti tratto da regina se ti senti giù chiama se ti metto giù chiama vuoi chiavare su chiama non fare come quell'altra che non me lo su chiama si chiamava Lu anime era mezza Q spana ancora oggi mi sta addosso più la odio più ah ma tu invece che cazzo c'hai ti fai sempre più strana non è più come prima fanculo tu e tu mamma non dipendo da te dipende tutto da me non sbaglio è mio che mischio sempre le ragazze con rap soltanto pazze con me penso che sono pazzo anch'io quando passo da io e te se mi per sempre ad addio penso al mio vicino che ha scappato in ticino solamente per non avere la moglie vicino questo fa riflettere su questa vita passa frate non ti mettere con la prima che passa ho più che voglia di svelarti segreti sempre che tu le voglia tutte quante i tuoi piedi regola 1 non farti mai guardare il cellulare o si insegna il nome degli altri puttani inizi a chiamare le due non fidarti della sua migliore amica per parargli il culo darebbe la vita e darebbe la figa la terza è fonda vitale per ogni tipo dille chi è più bella la mattina senza la matita se non ci credi e pensi che di castronzate allora non ci credi e prenderai solo in culate come me quando ho corrido un pischello e vedevo solo il bello finché bastava muovere l'uccello vorrei diverso anche se sono sempre uguale sai perché anche quando ti penso non ti chiamo mai perché con le donne non ci sono cazzi sono guai è più facile spezzarsi il cuore che beccarsi life e mi skill blocco records per tutte le ragazze mestruate sclerotiche nevrotiche là fuori sappiate che vi amo così vi amo e vi odio però adesso non dite che sono maschilista che fanno solo male il prossimo disco metto anche un pezzo d'amore ve lo prometto